Ma no, noi stiamo, abbiamo sempre detto, noi diamo un leale sostegno a questo governo fino alle elezioni, assolutamente. Sappiamo bene che problemi deve affrontare il governo Monti, che non se li ha cercati lui, francamente. Continua a dire che bisogna convincere l'Europa che di manovra in manovra andiamo nei guai tutti, e questo è il punto. Detto questo, dentro questo leale sostegno noi diremo la nostra, come abbiamo sempre fatto diremo la nostra. Per esempio, anche sugli esodati, adesso si dice che non c'è copertura per la legge che è stata presentata in Parlamento, dicesse il governo, davanti al problema che ha riconosciuto, che cosa si può fare? Intanto nell'immediato, perché già nel 2013 parecchie migliaia di cittadini saranno nei guai, e quindi comunque una qualche risposta deve venire. Ecco, quindi il nostro atteggiamento è questo, cercare di attenuare l'impatto di queste manovre che certo non si è cercate il governo Monti sul grande fronte sociale.